Sai, va bene, scusa, scusa. Lo sai, no? Mi entusiasmo subito. Comunque, comunque, Ignacio mi dice, io, ieri sera a Despotto ho conosciuto una giornalista, una gnocca da perdere la testa, da urlo. Poi va dal barista e gli dice, guarda con chi sto, capito? L'hai mai vista tu una così? E il barista gli ha detto, sì, è da perdere la testa. E la scrittrice gnocca ha detto a Ignacio, io, nel mondo del giornalismo d'assalto, sono la numero uno e conosco personaggi che agiscono dietro le quinte, capito bene? E Ignacio dice, davvero? E lei dice, sì, sai, però non posso dirti chi è il mio contatto perché lavora con gli Avengers. Oh, no. Sì, e questo qui sembra uno che spacca, amico. Lui va da lei.